Io ritengo che stamattina in quest'auto stiamo a nuovare quell'arco, quello che c'è creato il quarto di 19, il nostro pre ambientale, la mia prevede, il genio, la collega, la mamma è io, perché c'è stata una dichiarazione del mio gruppo rispetto a quell'altro che stavo con un'altra domanda, c'è stata la fisica del calendario che qua si stava preparando delle votazioni, delle fiori dei conti, ma ci hanno fatto dare delle cose che non potevo fare in questo momento, ma questo è tutto. Ma questo è tutto, nel tuo tempo, a un'altra domanda io mi raccomando questa maniera che stavo, rimando nel cuore, la questione anche giuridica, perché in materia a cui molto conosciuto, e faccio io il tuo intervento, allora faccio un'altra domanda che trovo sul gruppo di amaglio e troviamo, ma al di là di questo, io ripeto che al di là è un'altra domanda, la legalità dell'illegalità dell'alto, c'è un'altra questione che secondo me siamo dimenticati tutti quanti vivanti, guardate, questa è una questione di moralità, c'è una questione di moralità dei consiglieri, non è possibile che un consigliere comunale, eretto da un po', che deve essere un ordine di controllo di queste n, lui pregando di tutto e di tutti, facendo accordi di transversale, certamente non con la maggioranza, tenendo meno agli impegni di assoluto con i due elettori, dove non il padre, gestore dell'advocato, mentre lui è fuori per il mio controllo, scusate,